Bene ragazzi bentornati qua sul canale di Pompelmo Allora oggi vi dirò un segreto assurdo Con il quale vinco tutte le partite di Fortnite Ha una tecnica segreta che ancora in pochi sanno Ma che pensano che ancora non sia molto nota Ed è ancora abbastanza segreta Quindi segnatelo, prendete carta e penna Per vincere tutte le partite di Fortnite La prima cosa da fare scesi nella mappa E dovete cercare di fare in tutte le partite È non morire Se non morite vedete che vincete la partita Bene per sapere altri segreti Io vi aspetto in live su Twitch Oltre che qua potete vedere il video Però sapete che ci sono dei live E forse mi vedrete morire Perché forse no non morire è un po' difficile informe Comunque detto questo Oggi un nuovo video Dove andiamo a fare una pubblica Abbastanza alto tasso di bestimmiamento Purtroppo E nel finale troveremo un player Molto insidioso da andare a killare Quindi vi lascio il video e ciao 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 Sì, sì. Grazie a tutti No No Poverino Oh bello questo Ma se non so Oh bello questo 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 Ma perché sta parlando Solo con te con me no Oh bello questo Ah ma siamo 1v2 Oh bello questo 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 Sì qua è cattivo È lì? no io sto qua cazzo ha rotto il cazzo mi ha checkinato finché c'è vita c'è speranza nel cazzo vuoi far cadere qua che cazzo è stato qua dove di te ci voglio